È andata abbastanza bene, aspettavamo questa chiamata, siamo contenti anche perché tutti quanti dovrebbero vaccinare i bambini, un po' per cautelarli, anche perché il trauma che il bambino subisce quando è affetto da Covid lascia dei segni permanenti, quindi mi sembra corretto cautelare i nostri figli. È andata abbastanza bene, lei era tranquilla ed era favorevole a questa vaccinazione. Anch'io ho fatto la terza dose una settimana fa, credo nella scienza e quindi per me è importante che mia figlia si possa vaccinare e spero che lo facciano tanti tanti genitori.